Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Mister, una gara, quella di Frosinone, che forse non può essere giudicata, subito compromessa con degli episodi negativi tipo l'espulsione di Conti, può ha dovuto limitare i danni? Beh, una gara dove si era partita anche bene per i primi 30 minuti, abbiamo preso di rigore ed espulsione, Catanzaro non mi sono spiegato neanche io perché ha mollato così all'improvviso subito la presa. Dispiace perché eravamo andati a Frosinone per fare un altro tipo di partita, però ci sta a perdere ma ora bisogna solo rimettersi in corso per la partita col Perugia. Ecco, bisogna voltare pagina, forse il vero Catanzaro è quello visto contro il Pisa, fra 6G palla a terra, giusta mentalità e questo è il Catanzaro che vuole vedere? Beh, ma il Catanzaro a Frosinone per 30 minuti ha fatto la partita, giocava bene e dopo l'espulsione siamo incappati 60 minuti dove non abbiamo fatto nulla e loro hanno meritato. Nel secondo tempo ho dovuto gestire i diffidati e nulla, non era la partita come ho già detto che dovevamo fare. Ora abbiamo la fortuna di poter rimediare domenica contro una squadra importante come il Perugia e dobbiamo solo cercare di fare la partita con la stessa attenzione e impegno come abbiamo fatto col Pisa e come abbiamo fatto nei primi 30 minuti a Frosinone. Ecco, domenica il Perugia è una gara che le porta bene, mister. Da quando era natore del Catanzaro i giallorossi hanno sempre vinto. Beh, mi auguro che possa continuare questa striscia anche perché ci servono punti importanti per raggiungere prima possibile l'obiettivo. Grazie a tutti.